C'è attesa per la riapertura dei bandi per il piano di sviluppo rurale. I fondi europei, 313 milioni in tutto da ripartire entro la fine del 2022, verranno suddivisi in 50 misure specifiche. In questa fase, fino alla fine di gennaio 2017, sono state raccolte le domande per due bandi, quello per gli investimenti nelle aziende agricole e quello per i giovani agricoltori. In Liguria sono state raccolte 476 domande per gli investimenti, pari ad una richiesta di 33 milioni e 200 fra i giovani, pari a 5 milioni. Abbiamo caricato una cifra che pensavamo congrua, cioè per gli investimenti avevamo pensato 11 milioni e per i giovani 2 milioni e mezzo. In realtà quindi ci siamo resi conto che non sono sufficienti, però io colgo l'occasione per rassicurare tutti, perché non è intenzione della regione Liguria a tagliare qualcuno, tantomeno in un momento così complicato lasciare da parte e dimenticare quelli che vogliono investire. Quindi cercheremo di riaprire brevemente, nuovamente, gli stessi bandi per dare l'opportunità a quelli che verranno esclusi a questo giro, a questa tornata e quindi verranno ripescati la prossima. Le date per la riapertura verranno comunicate a breve vista l'attenzione che c'è sul territorio. I finanziamenti saranno accessibili anche per titolari di aziende agrituristiche, anche situate sulle località costiere. In uno dei prossimi bandi invece verrà data più attenzione all'apertura di nuove imprese agricole, create dal nulla da giovani che vogliano cimentarsi in questo settore, considerato strategico per la valorizzazione dell'entroterra. Questo piano premia quasi esclusivamente il passaggio generazionale, cioè chi eredita l'azienda dal padre, dal nonno eccetera. Noi vorremmo che fossero giovani che si avvicinano ora al mondo dell'agricoltura. Quindi abbiamo modificato recentemente un regolamento e c'è stato approvato anche dall'Unione Europea per riuscire a focalizzare questi bandi molto più su quei ragazzi che si avvicinano ora all'agricoltura, che partono da zero, stimolare quelli che vogliono recuperare i terreni abbandonati scientemente, con coscienza e accompagnati da qualcuno, da qualcuno esperto che possa affiancarli in questo duro percorso.